E siamo con Vito Rizzo, ideatore e organizzatore del Festival della Teologia Incontri, che quest'anno ha riscosso davvero tanto successo. Quattro giornate, come promesso ai nostri telespettatori, siamo qui proprio per annunciare quando ci saranno le repliche delle serate. Allora Vito, sveliamo queste date tanto attese. Le sveliamo grazie a Cilento Channel, che è il partner di quest'evento. Abbiamo immaginato di proporre tutte insieme le serate in uno spazio specifico. A partire dal 21 alle ore 15, nella fascia di maggiore ascolto, perché siamo subito dopo il Tg delle due, ci sarà l'anteprima di Castellabate. Il 22 ci sarà alle 15 sempre la tappa di Caggiano, il 23 la tappa di Asciamarina e il 24 la tappa di Agropo. Allora l'orario è sempre lo stesso a partire dalle 15, quindi ci sta la possibilità di rivedere la serata che eventualmente si è persa, oppure di rivederla, perché una cosa molto bella che stiamo registrando in questi giorni è proprio questa sollecitazione continua a sapere quando andranno in onda le repliche del festival. Immediatamente dopo la messa in onda poi porteremo anche il video su Youtube e quindi attraverso la pagina ufficiale del festival, la pagina Facebook che è appunto incontri, festival della teologia, ci sarà direttamente il link per poi andare a vedere il video e quindi condividerlo, farlo conoscere a quanti hanno avuto la sfortuna di non essere presenti quella sera, ma che hanno voglia di vivere e di condividere quelle serate. Bene Vito, quindi ricordiamo e ribadiamo i giorni e l'orario. Mercoledì 21 alle ore 15 Castellabate, giovedì 22 alle ore 15 Caggiano, venerdì 23 alle ore 15 Asciamarina, sabato 24 alle ore 15 Agropoli. Promosso, benissimo, grazie ai nostri telespettatori e dunque mi raccomando non perdete le puntate a partire da domani 21 Agosto.